marla perché se ti basa di modi dall'ultimo tombola con soldi pagata md sicuramente non è gay il papa è gay no ecco me ne vado vasco rossi è sottovalutato universario piccolo e da mesi che aspetto un video con mamma scusami chi sei mi piacciono gli obama è gay obabio babi bababui